E' buona sta s***a, assaggiala! No! No, devi chiamare Nicklem! Sì, Nicklem! Assaggiala sta s***a, beh, Nicklem è buona! No, fa f***o! No, è vero, è buona! Clicca un po' avanti così dirigere il corpo! No, devo fare la Nicklem! Clicca avanti così... ok, bravo! Allora, metto anch'io, che devo fare anch'io la intro! Grazie Sadro Pro per... Vado? Sì! Dai! Eh! Eh! Dai, vado, vado! Devi fare anch'io la intro! Eh! Benvenuti in questo nuovo video! Siamo qua con quella brutta persona che vedete dietro di me! Che si chiama Nicklem! Bellissima persona! No, tutta persona ti chiede! No, è... È... Sono io tutto, è bellissimo! Che si chiama come... Non ti muovere! No! Sei un attimo fermo! Va bene! Fermo! Questa persona che si chiama... Se riesco ad inquadrarla... Nicklem è 67 level e qua devi farlo con la sabbia rossa! Scusa, non me ne frega! Non c'ho la parte di tutto normale! Come... Siamo nelle TNT War! Non fate caso a quella... Quello che vedete là... E quello che vedete là? Sì? Eh ma... Cominciamo! 3... 2... 2... 1... 1... Vi... 6... 5... 6... 4... 8... 8... 9... 10... 10... 11... 9... 10... allora comunque se volete un tutorial per fare il camione starter servono dei blocchi da costrucciere, dispense, della ripita, della resta e dei secchi d'acqua in un secchio d'acqua ah e delle slab è sulla licenza GPL se non sapete cos'è la licenza GPL grazie a Belgique che non so di sounder allora fate questa forma qui come blocchi liberi dentro ce ne dovranno essere 4 1, 2, 3 e 4 sull'ultimo mettete una slab divotta verso il basso poi prendete il secchio d'acqua un secchio d'acqua un secchio d'acqua che mi non serve e lo mettete nel primo blocco come si fa sempre poi prendete il dispenser mi prendete pure due mi mettete uno qua e uno qua oppure io di solito lo metto sempre solo qua poi mettete un dispenser con uno rivolto verso il dispenser hanno due nove che poi vedrete un ripetere al 1 che comunque è il card di un tic molto poco a un dispenser e poi con l'arenza fate questo giochetto quando c'è anche di due cerite qua nessun niente per chi mi servirà anche una leva che non mi bombardare ancora e io quasi si dirà anche una leva la mettere qua o magari mettete la quando dovrete bombardare prendete prendete il tnt e le mette il dispenser comunque mettete la tnt la mettete in questi due blocchi qui in questa roba che si toglie l'acqua quindi esplode tutto quindi esplode tutto e ho preso e ho preso la città e ho preso la città e ho preso ma io ho preso non ho preso ma io ho preso chi è? e dopo che Nicker mi parla qua c'è un pistone che si è stessa bella e però tu hai iniziato e hai detto che non potevo iniziare ma non dimmelo e raga per poi farlo bello di spammare sulla leva perfetto e farete un bel buco che si vede dall'altro che questa è sabbia si e vi è arrivata tutta la sabbia addosso si anche a me mi raccomando potete bombardare non fate come il vostro starter che quando mette la DNA T e quindi gli esplode tutto ma ma se quella è sabbia è ovvio che ti arriva quando esplode quando esplode sono indietro è indietro è indietro retro tutta po 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 che c***o raga ma mi sapete dire quanto so da 1 a 10 da 1 a 10 da 1 a 10 ma mi sono arrivati ma mi sono arrivati mi sono arrivati è sembrato un un tornare st mi fa troppo ridere io cos'è se cosa dove è arrivata la sabbia il test al dispenser ma come faccio ad entrare ah no ma come faccio ad entrare nel vetro anche a me anche a me era arrivata in certa dispenser trrrrr ma il dispenser funziona lo stesso anche con un blocco di sabbia in testa perché il mio canone è un po' troppo ragazzi prima eh prima di attivare un canone dello speed starter spammato molto mi raccomando mangiate una mela d'oro però lui non ha fatto il tutorial non so neanche io so come si costruisce a me è esploso questa è l'ultima bombardata per adesso per fare quello che devi fare per adesso eh perché lui avevo 1,7 eh io come stessi eh beh eh beh eh beh eh 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 beh eh tanto l'holzingare la piena ma bulare g9 le persone che mi hanno cerco la porta doppia radio di in questo gruppo qua da Microsoft Store tutto l'app che sta legato a Microsoft Store è proprio l'app del Microsoft Store che è questo eh no però mella mi hai messi 50 così ti impari poi c'ho 6 password generator 3d builder che non ce l'avrò preinstallato poi one calendar una fantastica Microsoft Windows 10 Edition l'ho comprato traduttore Microsoft traduttore Microsoft e prima tipo non ce l'avrò me l'ho dovuto scaricare adesso bombardiamo come non fai bravo la distanza non ti esploderà mai te lo dico è perché fortuna lo fai partire così allora magari cosa ti è dovuto andare voi avete sentito quindi se il video che vi piace mi piace iscrivetevi e vi dite un prossimo video qui sono altre mappe se è interessante è tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti